gentili telespettatori buona giornata viviamo nell'era delle telecomunicazioni di internet della globalizzazione e da diverso tempo è nata una sorta di partito trasversale quelli del no a tutto a qualsiasi cosa mi ha fatto ridere l'altro giorno uno di voi che scrive c'era un video su mentana e altri 612 giornalisti che vengono sospesi dall'ordine dei giornalisti perché si sono rifiutati di attivare l'email certificato quello che chiamano la pec e uno di voi scrive mentana il leader dei no pec il leader dei no pec su ogni cosa c'è una parte che dice no dove c'è un leader del no ma no a tutto è adesso è facile parlare dei no green pass no vaccino no no pec no alpitur ai 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 ma a parte gli scherzi quelli che sono per il no a draghi draghi è un dittatore al partito unico draghiano e quelli che sono per il no della politica quelli che sono per il no a lockdown allora noi parliamo adesso del no a tutto perché intanto questi potrebbero anche strutturarsi e diventare anche una sorta di movimento ma chi sono intanto sono possono essere estremisti di destra estremisti di sinistra dubbiosi antiscientifici complottisti quelli del no a tutto voi sapete dove erano nati più o meno quelli del no erano i grillini vi ricordate e no tav e no tap e no al al salone di torino no alle olimpiadi no 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 avevano sommerso di no matteo salvini durante il governo conte 1 che finché a un certo punto si dice basta non ce la faccio più i grillini erano diventati quelli del no a priori il no a prescindere tutti questi poi ce ne sono tante categorie di tutto di più si uniscono in manifestazioni che poi tu dentro dici ma che c'è dentro ci sono un po tutti confusi ma questo qualche decennio fa non sarebbe potuto avvenire perché allora immaginatevi questa pandemia se fosse successa adesso parliamo di questo perché la cosa la cosa ultima fosse successa negli anni 80 nei primi anni 90 ci sarebbero stati i telegiornali i giornaloni pochi giornali di centrodestra perché ai tempi non c'erano i giornali su internet non c'erano i social non c'era facebook instagram non c'era twitter non c'era nulla quindi che cosa si faceva si ascoltava il telegiornale si comprava il giornale il corriere la stampa la repubblica la prealpina e altri non erano poi così tanti quindi c'era un'informazione abbastanza selettiva dove potevano esprimersi solo giornalisti premi nobel economisti solo alcune persone avevano il diritto ma più che il diritto il dir sì il diritto di far arrivare le loro parole a tutti no c'era bruno vespa la terza camera in televisione alle 11 e mezza di sera intervistava i politici che facevano il duello televisivo poi c'era il telegiornale cosa dicevano i giornali il giorno dopo finito tutte le persone che potevano essere favorevoli non favorevoli contro questo quel partito non avevano modo di mettersi in comunicazione tu potevi esprimere la tua opinione con i tuoi amici i tuoi genitori e al lavoro non avevi visibilità potenziale immensa illimitata quindi non c'era modo a molte persone che non erano d'accordo su qualcosa non c'era modo di incontrarsi dove ti incontri che fai vai in centro e ti fai un comizio non c'era modo quindi tu non sapevi se la tua idea era condivisa da altri o no io mi ricordo che negli anni 90 berlusconi aveva il 40 per cento alle elezioni ma se tu sentivi in giro nessuno lo votava tutti si vergognavano no lui aveva il 40 per cento 40 per cento vuol dire che quattro elettori su dieci lo votavano ma se tu chiedevi ad amici e parenti berlusconi io votarlo ma stai scherzando ma dai ma cosa dici ma perché mi hai preso ecco quell'unico modo per capire quello che pensavano gli altri era chiedere agli amici a scuola al lavoro ai genitori è tutto lì con l'arrivo di internet tutti possono scrivere quello che hanno voglia potete scrivere sul mio canale su quello di porro su quello del movimento 5 stelle potete scrivere su twitter alla meloni a salvini che poi lo veda o no chi lo sa però voi potete scrivere qualcosa e potenzialmente quello che scrivete può essere visibile a miliardi miliardi di persone può essere visibile perché se prende i like prende un certo un certo iter le stesse piattaforme lo propongono a più persone diventa si dice adesso virale molto noto poi magari quello che dice tizio lo vedono solo i suoi dieci amici su facebook però comincia a esserci interazione si creano dei gruppi dove le persone si uniscono quelli che non so c'è il gruppo degli amanti delle piante succulente quello delle non so italiani residenti in gran bretagna si uniscono in un gruppo si scambiano le opinioni nascono mille gruppi tu li cerchi ti iscrivi commenti caspita qui la pensano tutti come me e quindi si formano anche delle idee delle bolle di idee che magari non sono supportate da niente di scientifico sono su non hanno nessuna base scientifica non hanno nessun nessun fondamento no non so il gruppo noi crediamo alle sirene ma chi chi ve l'ha detto che esistono lo so e basta perché io e altri diecimila siamo iscritti sul gruppo delle sirene e se siamo in diecimila vuol dire che è insomma le sirene esistono ma attenzione diceva uno nell'antichità se diecimila persone si uniscono su un qualcosa che sul quale loro non hanno nessun tipo di conoscenza in diecimila dicono la stessa cosa su un argomento di cui non conoscono nulla l'opinione di quei diecimila non vale niente nel senso l'intelligenza collettiva ecco immaginatevi che diecimila persone si uniscono in un gruppo e si uniscono pensando una cosa pensando una cosa ma di quella cosa non conoscono nulla è tutta fantasia allora quella è un'intelligenza collettiva diecimila persone che farneticano su una cosa senza nessun fondamento scientifico non c'è un'intelligenza comune lì che sia una o diecimila persone un milione che dicono una sciocchezza tutti uniti quello non vuol dire nulla mi stanno chiamando per dirmi ma che ma che stai a dire ma chi sei ma che vuoi no telefono ecco già hanno risposto ecco no come come lino banfi vado io vado io vado io ecco questo è quello che volevo dirvi che oggi internet e i social fanno unire queste persone che prima erano solo a sole a casa non potevano immaginare che c'erano altre diecimila persone quindi ci sono gruppi di persone che si uniscono su delle basi inesistenti si fanno forza no uno uno vi può dire beh senti guarda guarda quanti iscritti sono 40.000 vuoi che 40.000 siano iscritti e pensino tutti la stessa stupidaggine può essere può essere può essere un'illusione collettiva ecco pertanto si stanno formando questi gruppi senza basi di nessun tipo ma stiamo parlando non stiamo parlando di no green pass o no stiamo parlando di quelli che dicono no a tutto a qualsiasi cosa e spesso si uniscono solo perché loro sono contro loro sono contro la società che non è che non li ha trattati bene non so e non sono riusciti a sposarsi non sono riusciti a trovare il lavoro che volevano non sono riusciti ad avere figli non sono riusciti a a comprare la macchina che volevano volevano tanti soldi invece non ce li hanno vorrebbero andare in ferie invece no al lavoro li trattano male e si sfogano poi sui social unendosi in questi gruppi dove dicono no a tutto e potrebbero poi anche unirsi in un in una corrente unica e formare anche dei movimenti dove la base è la rabbia sociale contro l'insoddisfazione e l'insoddisfazione che hanno spesso io mi trovo a dover affrontare degli argomenti dove devo inibire i commenti perché anche se io faccio un video tranquillissimo dove riferisco una notizia ci sono persone estremamente aggressive perché queste che si uniscono non hanno la capacità di dire io ho la mia idea tu hai la tua io penso quello che voglio tu pensi no diventa queste persone spesso hanno la presunzione di avere la verità dice ma perché tu pensi perché sì e basta perché perché sì e basta pertanto spesso questa minoranza che si unisce sul no a tutto è anche molto aggressiva e sembra una maggioranza perché sono quelli che cercano spasmodicamente tutti i video dove sfogare la loro rabbia contro quello che reputano un sistema un paese un sistema un mondo che complotta contro di loro contro questa minoranza che ha capito tutto ha capito tutto purtroppo loro pensano che l'altri 95 98 per cento del mondo degli esseri umani non ha capito niente loro sono degli eletti che hanno capito tutto e allora cercano di tutto per sfogare la loro aggressività contro quelli che reputano non aver capito niente insomma un discorso un po lungo per riassumerlo in un video di dieci minuti però ho cercato un po di esprimere quello che adesso si sta formando grazie ad internet alle telecomunicazioni alla globalizzazione arrivederci a tutti e grazie